Sto imparando ad amarti da lontano, era facile prima, bastava prenderti la mano, me lo leggevi negli occhi, non servivano nemmeno le parole. E invece adesso infiliamo il ti amo nei buchi del telefono. Esce un ti amo a spaghetto che preghi con tutta la forza della quarantena che arrivi forte, perché integro no, integro non si riesce più. Anche il ti amo escono sformati da questo tempo sospeso, spezzettati, disturbati, in viva voce, appoggiati sui lavelli. Sono i ti amo che sono ombre di farfalle di cui si riesce solo a immaginare il volo. Stiamo imparando anche ad accarezzare per interposta persona. Abbiamo portatori sani d'affetto che imploriamo di metterci tutto quello che riescono dentro a quella mano che si appoggerà sul viso della persona a cui vorremmo voler bene come ci avevano insegnato a voler bene, senza bisogno di messaggeri così, gravati da messaggi così facili. Per quelli che non sono mai stati bravi con le parole, questa distanza è un braccio caduto, mozzato. Un dovere imparare di nuovo a esprimere sentimenti come se ti avessero staccato gli occhi. Se potessimo appoggiare l'orecchio sul paese come se fosse una conchiglia, sentiremmo l'eco di persone che si amano e che si dicono che non accadrà più, che non accadrà mai più, che si promettano che non si faranno trovare più impreparati, che staranno vicini alla prossima pandemia, che oggi sembra diventato un evento circolare. Gli dicono tutti che tanto tornerà, come se questo nodo in gola sia destinato per sempre a ripresentarsi. Stiamo imparando a mancarci, anche se ci pensate, a mancarci senza prospettiva. Ed è una mancanza che sbriciola il cuore, qualcosa che senti che c'è e non ha nemmeno una sponda dall'altra parte su cui lanciarsi. Ci siamo abituati, ci stiamo abituando a dirci, a rivederci che non hanno più tempo, rimangono sospesi, sono urla, lanciate nel deserto. Sto imparando a non aspettare più, ad esempio. Mi sveglio tutte le mattine aspettandomi e provando a presentarmi nel modo migliore possibile, sperando ogni giorno di piacermi. Anche l'attesa ormai è smonta, è un continuo, incessante, infaticabile lavoro di costruzione di ponti su cui noi però non possiamo passare. E vorremmo farci scivolare tutto, rovesciarcici dentro. Credere che tutto, tranne il corpo, perché quello non può, ma tutto il resto sì, che tutto il resto possa passare. Sto imparando a dirti da lontano, ed è una scoperta dolorosa, come l'apertura continua di una ferita che non si rimargino più. Ne usciremo vivi, ne usciremo, ma avremo tutti i pori talmente aperti che ci entrerà il vento. Buon lunedì. Grazie.